vici youtube pino da ciao ragazzi io in australia e anche qua secondo me max e lewis sono in questo momento i due piloti che si aggiungono di più sono i piloti che si aggiungono di più c'è stata un'offerta dalla hugo eh però lewis ha rifiutato ma ovviamente no no ragazzi ho sbagliato ho sbagliato ragazzi i due vediamo in australia come va emilton eh ragazzi andrà forte pure qua in questo momento luis va veramente forte su questa macchina non ci sono rivali non ci sono eh ragazzi ho il gioco i tempi da qualifica senti non ci sono ciotto millesimi non ci sono ciotto millesimi ragazze mamma mia giuse emilton il più veloci in pista la bestia ragazze una bestia emilton siamo a qualifica le prove libere non hanno deluogo ma lo spettacolo appena inizio in questo grande weekend venti ragazzi è già il più veloce in pista non arriva il risale il tonico su quanto almeno le prime tre gare è tornato l'us quel di certo che il prossimo andrà in ferrari un caloroso benvenuti a tutti dall'alberpark di melbourne ma sto alle qualifiche per il gran premio d'australia rispetto io tutti i bari gare scambi c in mercedes prossimo anno vediamo vassor a maranello all'us già a carico per la prossima stagione ha vinto già le prime due gare fino a mercedes Grazie a tutti. Ah, ragazzi, c'è il gas lì. Con Alpine. Un sorpasso assurdo. Un sorpasso. si gira veloce 19 ragazzi 19 boh ma è assurdo ma probabilmente si gira anche sul 18 no no arriva sul 19 rasse il decimo sul 20 da terra al bon sargento ultimo comunque ragazzi emilton continua a essere il più veloce sia in qualifica sia in prova per tre gran premi di fila eh George decimo George che deve ancora tanto imparare da Lewis Hamilton visto che Lewis Hamilton quest'anno ha iniziato nettamente meglio grazie a tutti grazie a tutti E tu Verstappen non mi ricordavo un Lewis così veloce. Soprattutto i primi due Gran Plane. Dovrebbe esserci Miami, Sainz, Giroloce e Venti. Oh, Aronso. Hamilton. Boh, vabbè, ma Hamilton, ragazzi, va a fare pollo qua, eh. Mamma mia, quarto Russell. Russell. Buono. Quinto. Eh, settimo. Stappen secondo. Vabbè, comunque Russell settimo va bene. L'importante è rimanere nella media Russell. No, no. Mamma mia, due Ferrari messe va. Andiamo in Q3. Eh, ma Hamilton, ragazzi, secondo me fa pole position. Mi ricordavo un Hamilton così veloce. È proprio dal 2021. È tornato Hamilton, ragazzi, è tornato. Eh, ce la non sono avanti. Ma in questo momento il motore Mercedes è veramente forte. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vuole la pole Hamilton. Si accontenta del secondo posto. Vuole la pole position, ragazzi. Grazie a tutti. È aumentato, ragazzi. È aumentato. C'è un giro veloce. Mamma mia, Hamilton, ragazzi. C'è assurdo. Assurdo Hamilton. Pole position. Pilota più veloce, più forte. E va a fare la pole. E va a fare la pole. Andiamo con ansia la gara. Seconda pole per Hamilton. Diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo. Non so, quinto, Russell, l'ottavo. Mamma mia, Hamilton è il pilota più veloce della storia. Mamma mia, che pilota, ragazzi. Mamma mia, che pilota, ragazzi. Che tornato, eh, Hamilton. Vuole andare a vincere la terza gara di fila. E qua in Australia, ragazzi, sono 15 giri. Nel prossimo episodio, ragazzi, faremo... i 15 giri. Quindi vado a chiudere questo episodio corto. Ci vediamo poi per la gara in Australia. Bella a tutti. Pepinaudaccio e seguite la carriera Lewis Hamilton.